ragazze buonasera e buon martedì 23 di aprile ore 18 e 58 ragazze di questa giornata primaverile ma molto fresca anche oggi non ci ha graziato il tempo è stato un po così un misto un sereno variabile che continua comunque a rinfrescare raffrescare le giornate ragazze sono qui per farvi vedere il mio look of the day di oggi perfetto per questa primavera un po serena variabile diciamo e siamo pure noi un po così serene variabili ci sentiamo alla fine che vi devo dire che le giacche in tessuto dita in etto sono state e sono ancora un validissimo alleato per questa primavera per queste giornate che sono un po più fredde perché comunque mi danno la possibilità di vestirmi a strati perché comunque sono l'acquisto intelligente da poter fare perfette da sfruttare in questo periodo in cui bisogna avere un outfit uno stile un po cipolla come si suol dire insomma multistrato da poter sfruttare per tutto il giorno e perfette comunque essendo con un tessuto sfoderato è un tessuto prettamente primavera estate ragazze è perfetto pure da poter utilizzare in piena estate la sera magari con una bretellina perché perché è un tessuto che non dà assolutamente fastidio a pelle che quindi si può sfruttare tantissimo un po come il cotone ragazze quindi alla fine la versione latte è quella che sono andata ad abbinare su un total black total black composto dalla t-shirt color sacchiotto che un po esaurito non lo so perché ma quest'idea degli occhietti ax mi dà l'effetto anche lui un po stressato da questi sbalzi di temperatura quindi orsacchiotto in realtà nemmeno tanto piccolino come stavo dicendo due occhietti ax un po esaurito però insomma che ancora regge ragazze stiamo parlando di una stampa dorata stampa che non si leva che si può lavare tranquillamente lavatrice io credo sia la terza o la quarta t shirt che mi ho presa di questa serie e le sto adorando infatti continuerò la la collezione perché perché il tessuto è ottimo stiamo parlando di un cotone semi elasticizzato che veste incredibilmente bene ragazze la morbidezza di questo cotone la compattezza e la leggerezza perché comunque stiamo parlando sempre di un cotone per quanto riguarda una t shirt a mezza manica con il collo a giro le stampe una più bella dell'altra vediamo se riesco a farvi vedere allora quella con i cuori quelle che ci sono rimaste poi disponibili ragazze perché mi stanno piacendo talmente tanto questa pure bellissima con il cuore argentato glitterato e le zampine che praticamente anche grazie alla promo due e mezzo ecco questa pure me la sono presa e deliziosa da mettere anche sotto una giacca per un completo un pochino più elegantino perché ragazze è stilizzata questo cuore e chiedervi che praticamente allora le stiamo vendendo benissimo complice il prezzo complice la vestibilità il tessuto perché ragazze comunque rimane morbida sagomata leggermente sul seno ma molto molto morbida il collo pure vedete è bello ampio stiamo parlando di una mezza manica stiamo parlando di una maglia che arriva quasi a metà cia pet se andate non mi chiedete di togliere la giacca perché fa freschetto oggi se andate a metterla lunga vi arriva stiamo parlando di magliettine di t shirt in cotone che stanno bene sotto un blazer come vedete sotto una su un pantalone nero e quindi su un abbinamento magari che possa essere anche quello da ufficio un po più sgarzolino ovviamente parlando di t shirt in cotone perfette pure da mettere sul jeans strappato su un outfit un po più sportivo che possa essere anche quello di una tuta con una scarpa da ginnastica e quindi molto molto versatile per quanto riguarda il jeans vi dico che sono quelli push up neri che abbiamo disponibili fino alla taglia 52 un semi elasticizzato che veste perfetto con la vita medio alta che mi arriva quasi all'ombelico vi dico che sto indossando la canottiera ma vi dico soprattutto che queste t shirt che stiamo vendendo benissimo lo stiamo vendendo benissimo oltre che per il cotone come stavo dicendo oltre per la vestibilità e la sensibilità anche perché grazie alla promo due e mezzo ragazze io vorrei ricordarvi che ogni tre articoli che acquistate presso il nostro punto vendita il meno caro lo pagate soltanto la metà e quindi è vantaggiosissima come si attiva la promo ve lo ricordo sempre basta andare sulle nostre pagine di instagram facebook youtube tiktok rgn lovets che c'è sempre mettere like alla promo due e mezzo e salvare il reel e l'avete attivato è facilissimo comunque se poi non ci riuscite o se vi siete dimenticate di farlo non vi preoccupate perché poi quando passate qui presso il nostro punto vendita ve lo ricordo sempre come vi ricordo sempre di portarvi le tessere ragazze che avete tutte quante voi che passate presso il nostro punto vendita perché perché con la tessera ogni 20 euro di acquisto viene messo un bollino al completamento sono 10 euro che si possono spendere gratuitamente all'interno del punto vendita la tessera poi vi ricordo non scade non le buttate non le perdete ragazze perché sono punti perché poi alla fine sono 10 euro che si possono spendere gratuitamente all'interno del nostro punto vendita come vi stavo dicendo e in più come è successo ieri per la terza volta perché ragazze ieri c'è stata la terza estrazione ogni 20 tessere che vengono messe nel busto notto una tessera viene estratta e la vincitrice vince una gift card da 20 euro ieri vi ricordo che è stata michela conte a vincere la gift card che può passare entro sei mesi a spendersela io la sto aspettando e basta a questo punto ragazze vi ho detto tutto no vi ho detto che sto andossando anche queste scarpe che sono di un comodo allucinante vabbè ve l'avevo già detto nelle altre storie e se siete curiosi ad andare a vedere le altre storie mi raccomando sul canale di youtube reggiano lovers trovate tutti quanti video spoil con le storie a ritroso basta andare lì per vedere quali sono gli articoli che abbiamo scaricato i giorni passati a questo punto ragazze io vi do appunto a metà domani che è mercoledì a partire dalle 9 30 fino alle 13 e 30 poi dalle 16 alle 19 e 30 sono qui ad aspettarvi presso il nostro punto vendita online sono sempre a vostra disposizione perché volendo c'è anche chi può fare lo shopping online io sono sempre a vostra disposizione ragazze reggiano lovers su instagram facebook youtube e tiktok mi raccomando seguiteci dappertutto da manuale è tutto ci vediamo domani ciao ciao